ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video o finalmente un'altra puntatella dedicata alle vostre collezioni di orologi e a tutti quei pezzi del ferro che tanto ci garbino a noi appassionati e che siano entry level o di livello superiore a noi non ce ne frega niente alla scimmietta non ne frega niente lei vuole vedere gli orologi e riuscire a capire se c'è qualcosa che le può interessare solitamente interessano è il 99 per cento degli orologi che vede e che vediamo ci interessano ci interessano in un modo nell'altro sia per a livello di nozioni di conoscenza di pura conoscenza perché poi oppure anche di possesso che poi non è solamente possesso no questo nostro hobby si è bello avere gli orologi perché uno ne ha quasi 40 50 è logico che che non può indossarli tutti contemporaneamente li deve dividere in periodi come ad esempio ora io ecco l'orologio del giorno e questo rolex dayjust 41 con il quadrante nero la lunetta zigrinata acciaio e oro è un orologio simpatico stavo dicendo appunto che ora è un periodo che ho ritirato fuori lo sto indossando assiduamente no però c'è stato un momento in cui l'ho lasciato un po da parte per dare spazio ad altri e il bello è questo no prima a me succede questo una volta che lo metto al polso poi dopo qualsiasi orologio è che sia per un po lo voglio lo voglio ottenere capito magari lo alterno con altri due o tre che ho sempre pronti lì sulla nella macchina del tempo no la scatola watch winder quindi ne ho tre ad esempio poi magari di sera questo qua me lo tolgo mi metto magari longe in vintage del 73 no dipende però si va un po a periodi magari d'estate si indossano più i diver ok io devo fare così perché se ne ho tanti per dare spazio a ognuno di loro devo un po dividerli ok però dicevo c'è anche la componente della conoscenza no del capire del vedere di sapere che esistono certi orologi anche se non li possederei mai le guardiamo che ci sono che esistono magari non rientrano i tuoi gusti no come super complicati che abbiamo visto la nella scorsa puntata non li comprerei mai non rientrano nei miei gusti con quei soldi prenderei altro roba più semplice no sono io sono sono un ragazzo semplice però fa anche piacere vederli capire e insomma essere a conoscenza di tutto quello che c'è nell'intorno adesso i discorsi inutili lasciamo alle spalle il ditino inquisitore è pronto sia a colpire la barra spaziatrice che a giudicare le vostre collezioni e purtroppo è così dai primo video buongiorno davide e agli amici del canale mi chiamo fabrizio sono di forlì forlì inizio subito col presentarvi presentarti la mia mini collezione già mi piace la mia giusta seiko prospects heritage turtle bello diver che lo uso tutti i giorni se riesce a usarlo tutti i giorni circa un anno fa ok ha avuto il particolare che all'inizio mi faceva meno 15 secondi giorno meno 15 poi dopo circa un anno un po' deluso volevo comprarmi un cosco per avere qualcosa di più preciso all'improvviso ha iniziato a fare più 10 secondi giorno sì ma questo non è un lato positivo non è un lato positivo che un orologio vada da meno 15 poi a quando gli pare a lui a seconda della temperatura o del di come come sole il mestru a seconda del fa più 10 da meno 15 a più 10 vuol dire che c'è qualcosa che non va nel calibro che non è super preciso che non è di pregio diciamoci la verità e secco sono famosi per non essere super precisi no a differenza magari di altri calibri che statisticamente ti fanno anche pur non essendo cosco sono più precisi più accurati e ti capisco deluso dal fatto che sto qua faceva meno o meno 15 volevi un cosco a un certo punto uno deve voglio l'orologio preciso o ti capisco sentiamo come va a finire perché e con mia grande soddisfazione mi sono dato una calmata però non dovresti volevo chiedere se mi sai dire come mai ha fatto questo salto in avanti il meccanismo no non lo so non sono un tecnico con i salti in avanti allora intanto possiamo anche dire che ci può essere anche possiamo che prendere in considerazione l'errore di misurazione cioè l'essere umano che sbaglia in primis a misurare potresti potresti esserti confuso punto interrogativo oppure visto che sei abbastanza fissato magari no è da escludere secondo luogo tutto ciò che è imprevedibile è pericoloso è sbagliato una macchina un uno strumento se è imprevedibile se non ci dà un risultato costante nel tempo più o meno costante con una certa tolleranza è pericoloso cioè non è non è attendibile quindi non è che te lo vedi andare a più 15 da meno 15 che faceva e devi essere contento ora mi metto l'anima pace no è peggio ancora è meglio un orologio che fa sempre meno 15 meno 15 fisso ok piuttosto che uno che un periodo te ne fa meno 15 poi te ne fa più 15 cioè è imprevedibile quello che fa meno 15 fisso lo puoi regolare e saprai che scarterà sempre quello che gli hai dato te come punto fisso quello che se ti fa meno 15 più 15 te lo regoli quel giorno sui meno 15 lo porti a meno 5 vicino allo zero e poi dopo scopri che ti va avanti di più 10 a quel punto no è imprevedibile non è regolabile però siccome io non sono un tecnico non sono un espertone non sono un orologio aio e quindi ti dico la classica risposta no boh vado avanti con il mio secondo acquisto questo bellissimo mi va da granchen deep master deep master un diver da mille metri mille metri di profondità e dove ci va la sua valvola ad elio ad elio full bronze non è full bronze si vabbè fondello numerato serie numerata ci piaccicchia dai cinturino tropic massiccio massiccio poi basta ghiera in ceramica pacman c'ha col movimento soprod c'ha il 6 a pacman un orologio che attualmente mi fa impazzire più 10 secondi giorno ah si è fissato più 10 anche questo direi che è soddisfacente soddisfacente va bene direci dai ragazzi su poi ti presento pausa orologi che mi ha lasciato mio padre questo rolex cellini simpatico mi piace anche il platino praticamente un orologio gioiello eh si ma nemmeno tanto eh il platino non è come l'oro giallo rosa cioè se bracciaio un bellissimo orologio che uso in occasioni speciali bravo ci piace così pausa ultimo l'ascito l'ultimo orologio della serie questo rolex dayjust 36 millimetri un quadrante bello mamma mia bello 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 numeri arabi numeri arabi full gold un bracciale l'ho tolto perché è piuttosto impegnativo da portare eh si è un bracciale oyster eh si ho messo questo bracciale cinturino in pelle capisco cioè c'è l'oyster tutto in oro mamma mia pesante si è pesante ragazzi purtroppo eh sarebbe anche bello ma è pesante veramente ora io a proposito dell'oro ogni volta che vedo il pulso questo qua acciaio e oro con la parte centrale solamente in oro così frastagliata cioè è uno spettacolo è veramente uno spettacolo si vede proprio che è oro vero che non è placato pvd cioè a volte pensavo ma se fosse tutto d'oro se fosse tutto d'oro non sarebbe bello come se fosse acciaio e oro poi a volte penso al al day date no day date completamente in oro potrebbe essere interessante anche quello magari è pesante comunque per farla breve secondo me la l'acciaio e oro messo così con la zigrinata con la ghiera zigrinata la lunetta e il bracciale giubili così è veramente uno spettacolo rispetto ad uno full gold ora così con la testa full gold col cinturino è anche bello cioè entra in competizione direttamente con questo non mi piacciono tanto i numeri arabi così sparpagliati con tutti che puntano verso il centro no non mi piacciono tanto cocodrillo anche questo ha una sua storia praticamente è stato regalato a mio padre dalla sua azienda come premio che azienda per i risultati ottenuti cosa ha fatto ha venduto milioni di euro di roba cose che oggigiorno raramente penso che succedano ancora ma nel cartello di medein succedono ti ringrazio prego se esporrai il mio video al canale lo spero lo sporrò un saluto a tutti a scatti un abbraccio love love un'esposizione a scatti direi un'esposizione un po' con le pause in mezzo che ci passava cioè tra una parola e l'altra c'era mezz'ora di pulma eh va bene allora gli orologi sono tutti stupendissimi eh ragazzi cioè un seco vabbè un nivada simpaticissimi cellini ed ajast vabbè sono particolari come orologi eh vabbè che due sono lasci ti do un sette un sette te lo do chiaramente tra tutti quelli lì allora il cellini io non so nemmeno che che diametro abbia perché sinceramente mi piace come orologio con i piccoli secondi così cioè andrebbero un pochino rivalutati eh ora quelli quelli nuovi allestino costano un pacco di soldi la botta di soldi che se devi spendere dei soldi quei soldi per un rolex magari vai a pigliare anzi qualcos'altro di più sportivo e lo comprendo bello invece il day just così con la testa completamente color oro a parte i numeri arabi messi così che non mi piacciono però anche quello lì è uno di quegli orologi che uno poi ci può ci può anche pensare sopra no un bel 36 tutto d'oro full gold con un bel cinturino in cuoio è bello è bello è bello però 36 vabbè se te te l'ho dato dai quattro orologi di cui due lasciti esposizione che lascia un po' a desiderare comunque dai sei promosso dai prossimo video caro davide e dimmelo ciao a te e a tutti gli amici del canale ciao amici con questo video voglio mostrarti il mio ultimo acchiappo che roba c'è ragione voglio fare una specie di unboxing una specie perché in realtà è un unboxing finto finto sono andato oggi a ritirarlo in negozio e l'ho messo subito al polso l'ho tenuto praticamente tutto tutto il giorno bravo non ho resistito bravo si tratta di un segnatempo che desideravo da tanti anni cosa? dal 2018 ah ma proprio come è stato per te con il moon watch aveva delle caratteristiche tecniche che mi facevano un po' esitare eh ti comprendo come si vede dalla scatola e vusi è un iwc iwc scusate iwc un pilot nello specifico un pilot strano e si tratta del nuovo mark 20 top che posso dire che diametro è? nel 2018 ero innamorato della versione Petit Prince ma cosa c'era? che montava sostanzialmente un movimento di fornitura che era il 35 se non sbaglio il 3511 basato su un SLita sv301 e aveva anche un'impermeabilità di 6 atmosfere 6 atmosfere? da una parte lo so sono un po' pippe mentali sono dettagli su cui uno in teoria potrebbe anche un po' sorvolare però che ti devo dire a me non andava giù e con l'uscita di questo eccolo che cade con l'uscita di questo modello diciamo che non ho più avuto non ho più avuto scuse non ho più avuto scuse è un orologio che oggi monta un movimento di manifattura ha una riserva di carica di 120 ore rispetto alle 42 precedenti un'impermeabilità portata a 10 atmosfere anche nelle dimensioni è stato un pochettino ritoccato perché sia lo spessore che il lag to lag sono un pochettino più contenuti come se volessero fare un pezzo leggermente più raffinato più raffinato tant'è che pure le sfere sono diverse non so se si vede sono diverse ma hanno i bordi rodiati lucido a differenza di quelle precedenti che erano opache e nere migliorando così anche la visibilità insomma per me è che dire è una vera e propria bomba ero innamorato all'epoca e oggi lo sono ancora di più ne approfitto per farti una rapida panoramica anche sugli orologi che ho qui in casa va bene facci la panoramica però fammi spendere due parole a riguardo di EVC ora noi vediamo questo EVC qua così come un pilot con il quadrante classico dei Flieger di questo tipo come ce ne sono tanti altri quattro stessi marchio fa un pilot di questo tipo però quando hai per le mani un EVC ti rendi conto dell'elevata qualità costruttiva sia della cassa dell'avvitamento della regolazione dell'orario sono proprio fatti bene ora poi bisogna essere anche amanti del marchio ad esempio io non sono amante del marchio EVC non chiedetemi perché perché non c'è alcun motivo logico razionale per cui io non voglia un EVC in collezione non c'è, non c'è, non c'è però non riesco a decidere se ho da spendere dei soldi ora mi metto in collezione un EVC un pilot oppure quello che è tipo un cronografo no, non mi viene proprio è sempre lì da parte perché poi magari non ti scatta la scintilla non a me finché non scatta la scintilla e poi dici allora dopo quel punto lì come ho fatto con Panerai come ho fatto con Panerai che li ho lasciati da parte per tanto tempo snobbandoli poi dopo a un certo punto dici ma perché vado e puff in questo caso però con un EVC non mi è ancora successo niente ma succede anche con altri marchi che dipende un po' dal periodo in cui ognuno di noi è è come i pittori, no? come gli artisti che hanno il periodo rosa il periodo blu e il periodo a strisce come diceva Labbo, no? però io ora il periodo di Bursino ce l'ho ancora verrà? arriverà? non si sa chi vivrà? vedrà sentiamo cosa c'è da dire sul resto perché sennò il vuoto non te lo do per un orologio non te lo do partendo dai miei primi due automatici in assoluto il primo che l'avevo preso senza senza troppa consapevolezza anzi direi proprio senza consapevolezza il secondo invece un anno dopo l'avevo scelto con molto più molto più criterio tant'è che il ProMaster mi accompagna praticamente in tutte le vacanze tutti i viaggi che faccio è un orologio che viene sempre viene sempre con me poi mi ha incuriosito moltissimo il periodo in cui Yema ha tornato un pochettino in auge e mi ha colpito parecchio parecchio insomma mi ha incuriosito moltissimo bello nero il superman e ho preso questo questo modello che è una un'edizione limitata e devo dire che oddio ho già visto che stavano non l'avevo mai visto è la prima volta che lo vedo tutto nero così non è nei miei gusti però ci sta ce lo capisco lo comprendo che è bello va vi dico che è bello perché è bello però poi quando ho visto a ore 6 il l'indice che ha la coccarda francese e poi quella potrebbe anche passare gigantescamente l'ho vista anche sul bordo della corona della sì della corona sulla faccia della corona la coccarda tricolore francese eh no ragazzi va bene tutto quello che volete ma io non lo non lo posso indossare una coccarda così di un altro paese ma non è perché francese potrebbe essere anche belga o spagnola mmm anche svizzera mi ci fai il coso con la croce rosso bianca no 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 vabbè però eh 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 ne sono ne sono molto soddisfatto meno male non mi posso assolutamente assolutamente lamentare va bene bellino molto bene poi poi il mio moon watch bravo topino con calibro con calibro 3861 nella versione in zaffero eh che mi ha accompagnato nei momenti più importanti della mia della mia da quando l'ho comprato nei momenti più importanti della mia vita il matrimonio la nascita della mia seconda figlia prima no il mio lavoro eccetera eccetera è sempre stato con me in quelle in quelle occasioni i momenti più importanti della prima figlia no poi il mio gmt master 2 confiammelo che devo dire indosso spessissimo e volentierissimo quasi ogni giorno alternandolo a eh un altro orologio che cazzo si è un po' graffiato alternandolo a un altro orologio che devo dire è uno dei miei preferiti se non se non il mio preferito è l'ORIS 65 con il calibro 400 e con la ghiera con il secondo fuso orario questa questa diciamo questa funzione per l'ORIS questa complicazione invece per per il rodex per me sono molto importanti visto che io sono sono nato oltreoceano e mantengo contatti quotidiani con il mio paese natale ultimamente negli ultimi anni anche a livello lavorativo ah bravo intanto ti ti ringrazio molto per il tempo che mi hai dedicato che vorrai dedicarmi e soprattutto per quello che per il tempo che dedichi a tutti noi condividendo la tua passione figurati i tuoi pensieri sugli orologi grazie davvero di cuore love apprezzo apprezzo le parole apprezzo le parole bene è fatto bene a farci vedere tutti questi belli orologini successivi perché anche loro hanno tutti il loro perché diciamo la verità ora vedere lo speedmaster e tornando al discorso iniziale in apertura è già un po' di tempo che non lo utilizzo ad esempio lo speedmaster l'ho utilizzato ora ho preso una pausa dalla palestra di un mese due mesi ora rinizio ora rinizio si dice sempre così con l'estate ho smesso perché era caldissimo quindi lo speedmaster che il suo compito principale era quello di calcolare i tempi di pausa l'hanno costruito apposta per quello negli anni sessanta negli anni cinquanta e quindi ora loro indosserò però per dirti non si va periodi bello lo speedmaster poi hai fatto bene a fare la differenza di una cosa che non avevo mai nemmeno su cui non avevo mai nemmeno ragionato io la funzione gmt che c'ha l'oris diver 65 è la complicazione gmt che c'ha il rolex master gmt master 2 una funzione perché la ghiera che basta che girarla e la sposti sulla lancetta l'altro invece è proprio la terza lancetta che si muove che quindi la differenza è quella e io sinceramente non come ho detto già tante volte non non disdegno anche la semplicità la semplicità di un orologio solo tempo con due sfere 3 con quella dei secondi con quale secondo fuso orario lo prendi sulle 12 ore ruotando la ghiera ma anzi la semplicità l'immediatezza di quello di quel sistema lì di quella funzione lì secondo me è vincente poi al di là di tutto che l'orario di casa arrivi devi spostare sposti una lancetta solo che va bene tutto quello che vuoi però la semplicità vince sempre va bene io ho questa collezioncina qua che è simpatica che mi è piaciuta e per la quale ti faccio i complimenti anche per la scelta delle iwc che è un po' fuori d'accordo fuori d'accordo per me sette e mezzo sette e mezzo e con tutti i crismi compresi di due due non ce n'hai tanti eh però tutti belli complimenti compresi di due entry level all'inizio bravo promosso ciao davide mi chiamo Matteo ho 18 anni e questa è la mia collezione di orologi da stirato perché ovviamente a 18 anni capirai che il budget è un po' quello che ha eh capisco il mio primo orologio 6,5 comprato a maggio del 2023 a circa bello niente probabilmente è per lui che mi è nata la passione come vedi già da qua ho il polso molto piccolo quindi taglio i cuscinetti quando ci sono dei braccialati perché sennò succede un po' un macello 6,5 è conosciutissimo visto da tutti caso mio un po' l'explorer passiamo al prossimo ora sul problema dei cuscini dei cuscini del polso piccolo hai visto come si stringe come vedi ora non è che lo faccio per le scatole che prendo io quelle per gli orologi che sono anche nella descrizione qua sotto se non mi sbaglio sono con hanno i cuscini morbidi ma talmente morbidi che lo puoi anche trasformare così e tra l'altro il cuscino morbido qual è il vantaggio che non tende se ci rilascia un orologio dentro per dei mesi per delle settimane per dei giorni e così è anche se poi lo togli e lo usi poi ce lo rimetti quindi la maggior parte del suo tempo sta lì con il bracciale intira così completamente su un e non è che gli fa tanto bene niente di esagerato però se il cuscino è morbido e gli crea meno tensione sulle parti mobili direi che è meglio per dirti questo da veramente l'idea di solidità molto più pesante delle 6,5 ma in generale molto più pesante di tantissimi orologi adattissimo probabilmente per tutte le attività più sportive ed estreme 42mm quindi anche se ho il polso molto piccolo devo dirti la verità non mi sta male non mi sta troppo grande sta come un diver deve stare secondo me sta come vedi su questo cuscinetto perché alla fine ho ritagliato anche questo ho ritagliato e grazie alle anse corte e la vestibilità quindi è ottima finiti giapponesi questo qua è il mio unico vintage e anche unico svizzero attualmente ovviamente l'obiettivo è ampliare è un sicura l'ho trovato a casa del nonno e il nonno è ancora vivo tranquillo non ti preoccupare però non mi preoccupo io però questo me lo sono portato a casa io ovviamente col suo permesso che lui l'ha comprato nel 65 da un militare canadese che faceva il militare con lui mentre mio nonno stava prendendo la laurea poi l'ha sostituito subito con un longjin che però tiene ancora lui fatto revisionare gira davvero bene mi sembra che tenga il tempo anche abbastanza bene anche se ce l'ha in mano da solo pochi giorni mi piace molto averlo al polso con questo vetrino bombato cerco di non utilizzarlo troppo spesso comunque è un vintage e necessitate le sue attenzioni si ultimissimo acchiappo questo suges con la st 19 calibro conosciutissimo ormai un sacco di gente lo porta sul canale l'ho pagato davvero niente su aliexpress mi è arrivato oggi proprio so anch'io che spesso suges imita purtroppo brand più blasonati però in questo caso non mi sembrava imitasse nulla si infatti e chiaramente non l'avrei comprato nell'altro caso 38mm sempre perché ho il polso piccolino quindi così siamo proprio al limite limite a 38mm con queste anse così lunghe Davide la collezione è finita eh non vedo l'ora di vedere il video su youtube per sapere la tua opinione spero che tu sia stato clemente perchè comunque ho appena 18 anni quindi come ti ho detto anche in inizio sono stirato ciao ciao stirato e cos'è sei stato messo sotto dalla macchina ribadisci ancora sempre più spesso il discorso dei 18 anni eh lo comprendo non ti preoccupare non c'è problema quattro orologi di cui di cui tre entry level ma anche sicura quel tempo era un entry level non è che fosse niente di che però è interessante no? tanto te l'ha dato il nonno e c'hai già un vintage diciamo possiamo dire eh credibile attendibile cioè i dubbi sul fatto che sia stato accrocchiato si abbassano in percentuale notevolmente in quanto ti è giunto dal nonno che gliel'aveva regalato bla bla poi se per la strada gli è successo qualcosa noi non lo sappiamo però intanto è abbastanza attendibile non è che sei andato qui sulla bancarella a prendere la crocchion e ti hanno direttanato no? gli altri tre sono tutti e tre altri level di cui il 6.5 il classico quello diciamo explore con la ghiera con i numeri incisi e il kamasu che è l'orologio perfetto per andare al maro e poi il suggest lì che si marchietto l'ST19 calibretto che se insomma una volta oliato regolato messo per bene è un calibre che fa il suo no? come si può dire però in questo caso viene direttamente da da là se non sappiamo se l'hanno lubrificato bene insomma i dubbi sono sulle aziende che le costruiscono non assomiglia a nulla non assomiglia a nulla e ti dico per quel per il tuo percorso per come sei messo te per i tuoi 18 anni così sei contento ci sta ci sta andare anche a sprucogliare in questi marchi qua così su Aliexpress pagarli poco per averlo no? poi da quando ne avrai 28 non so se quell'orologio lì sarà ancora nella tua collezione puoi tenerlo come ricordo ma io ho i miei dubbi avrai altri tipi di orologi e ti sarei posizionato anche perché si cambia si cambia non è che si il discorso è sul costo dell'orologio si cambia proprio una cosa che ti piaceva a 18 anni a 28 x a 38 y a 48k poi dopo sdraiato morto quindi si cambia detto questo non ti offendere però un 6 perché praticamente gli orologi da tenere in considerazione sono 3 1 in vintage regalato un 6 dai possiamo iniziare perché è multiplo di 18 è multiplo di 6 ho fatto questo calcolo qua hai ribadito 18 e io 6 6 6 va bene? ciao Davide sono Marco da Padova e oggi vorrei mostrarti la mia modestissima collezione di orologi composta per lo più da pezzi insomma che mi sono stati regalati che ho trovato in cassetti che ho iniziato regalati o trovati in cassetti come si è messo? cioè vai a raccattare gli orologi in giro e più non posso regalati scusami me lo regali un orologio mi piacerebbe quello lì me lo regali trovato nel cassetto preso a casa dell'amico portato via e uno compratelo no? poi guardiamo eh ho iniziato ormai qualche anno fa circa quando avevo 17 anni ora infatti ne ho 19 e io inizierei subito 19 dai quarzi lì qua tutti giovani oggi eh il primo è questo citizen ecco drive radiocontrollato che mi è stato regalato dai miei genitori per il mio diciottesimo compleanno buono 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 sportivo e questo psycho chronograph che invece mi è stato regalato da mio zio anche lui appassionato di orologi bravo zio perché non se ne faceva più niente ah eh tra regalato insomma funziona anche tutto a partire dalla sua sveglia eccola qua e il cronografo si facci vedere tutte le funzioni di questo best kit senti come canta eeeh un usignolo ok metti via poi andiamo agli orologi meccanici speriamo inizierei da questi due cipollotti cipollotti il primo è questo lanco effettivamente il primo orologio è entrato in mio possesso perché me l'ha regalato mio zio lo stesso lo stesso del seico in occasione del mio battesimo addirittura funziona ancora bene nonostante sia degli anni trenta fammi capire una cosa cioè il battesimo se l'hai fatto come tutti gli esseri umani italiani l'hai fatto appena nato quindi lui già appena ti non eri capace di intendere di volere ti ha regalato un segnatempo se è data così se invece il battesimo l'hai fatto nel 19 l'hai fatto a 18,5 te l'hai regalato con cognizione di causa e sarebbe meno romantico è più romantico pensare che te l'abbia regalato quando hai fatto il battesimo da neonato tieni e ti sei rimasto influenzato da questo regalo eh vogliamo vogliamo quella fantasia e questo labiers che però non è effettivamente mio sarebbe di mio fratello eh vabbè anche questo qua regalato da mio zio ormai è una tradizione di famiglia regalare orologi da tasca ai ai nuovi nati ah ganso in una cassa oro da 12 carati è ganso sta cosa qua dei regali eh si apre abbiamo gli orologi che ho ereditato ereditato dal nonno inizierei con questo Doile a cui sono molto legato perché è stato l'orologio che ha acceso la mia passione proprio sentire il meccanismo dentro mi ha fatto proprio appassionare pensa che Doile è un marchio degli anni 50 60 Livornese e di credo che sia di un fosse un proprio una gioielleria un negozio che poi fece fare questi Doile qua ebbero anche un relativo successo eh per capire come funzioni un orologio del genere infatti prima non sapevo l'esistenza di orologi che non funzionassero se non quelli a batteria e questo cos'è? Kedive marca che mi è sconosciuta che penso sia una delle tante scomparse durante la crisi del quarzo eh sì e mia mamma mi ha sempre raccontato che mio nonno questo orologio già l'ho preso e usato e in più lo utilizzo lo utilizzava tutti i giorni per andare al mare per fare qualsiasi cosa al mare quindi è davvero molto vissuto cromato peccato cromato ha già resistito che troppo poi abbiamo questo orologio a carica sempre manuale di mia mamma che le è stato regalato per la sua comunione cazzo un raw wheel anche qui non ho idea di che cosa sia eh ma l'ho già sentito cosa che più mi ha stupito è quanto fosse piccolo e insomma mi piacerebbe anche aprirlo per capire che genere di movimento lo animi aprilo compri la chiavina flip ecco vorrei finire con gli unici due almeno per il momento orologi automatici eh che mi sono stati regalati partendo da questo omega century che mio papà mi ha regalato qualche mese fa in occasione del mio diciannovesimo compleanno tanta roba bravo papà a questo orologio sono davvero molto legato non solo perché è il primo orologio che posseggo che effettivamente fa parte di una myzone molto importante ma anche perché mio papà nel nel cercarlo si è appassionato anche lui all'orologeria prima non è che gliene importasse così tanto e in particolar modo proprio ad omega eh beh questo orologio è davvero bellissimo secondo me eh sì è a tutto originale tranne ovviamente il cinturino che essendo del 67 a fatica si conserva la corona comunque è la sua ma soprattutto anche il vetrino che infatti non so se si vede ma è ancora logato omega te lo stavo per chiedere sì bravo plexiglass quindi visto che lui anche lui si era appassionato agli orologi abbiamo deciso a un mercatino delusato di andare a caccia io speravo di trovare qualcosa come un psycho 5 no la vecchia referenza la generazione precedente ancora con la cassa 36 mm e un orologio con la cassa 36 mm infatti l'abbiamo trovato non proprio un psycho 5 direi gonfiammelo infatti è un altro omega top omega sea master sempre dello stesso anno di questo qui fatalità 1967 anno inquinata mia mamma animato dal calibro ehm 752 questo è un 166 eh 0 32 questo invece è un 166 0 0 2 questo qui ehm per il poco che l'abbiamo pagato è tutto in ordine infatti è anche stato da poco ehm revisionato ehm ha tutto originale ehm tranne per il vetro che non è il suo e vabbè per il cinturino che onestamente a me non fa proprio impazzire che mi piacerebbe prima o poi cambiare ma si tra l'altro il signore che ci ha venduto questo orologio ci ha anche regalato una scatolina dell'epoca pensate che bello sempre di omega originale non sua non propriamente sua ma comunque a cavaldonato ehm non si guarda i denti ecco con questo concludo il mio video spero che la mia collezione ehm ti sia piaciuta e se magari hai mi puoi consigliare un orologio entry level che possa stare bene sia un polso più piccolino come il mio da 17 che ha uno più grosso da circa 20 21 21 te ne sarei grato un saluto a te e a tutti gli amici del canale alla prossima ciao 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 bravo complimentoni ho visto la scatola lì vi voglio dare un aggiornamento la scatola del longin che avevo preso su ebay poi alla fine non ce l'aveva non aveva quella dell'inserzione ne aveva una un pochino più rovinata mi ha detto ti posso mandare questa uno storno oppure ti mando un cappellino insomma non l'ho presa e avevo poi avevo messo tra i preferiti no sotto osservazione altre scatole e quando ti metti sotto osservazione altre scatole arriva il venditore ogni tanto che ti spara che ti spara il prezzo per fartela prendere e l'ho presa a 20 euro più 24 di spedizione dall'estero quindi 44 euro rispetto anche ai 55 che avrei pagato prima bella quasi nuova quindi mi arriverà a breve la scatola del mio longini idroconquest del 2014 incomincio già a costruire il suo bel corredo perché ho visto la scatola qua e mi è venuto in mente belli questi orologi qua tutti belli tutti trovati, regalati, arraccattati qua e là insomma Teddy e poi tutti vintage 19 anni, oggi capitano tutti i ragazzi 18 anni, 19 anni pensavo questi qua sono nati dopo il 2000 cioè veramente mi sento vecchissimo tutte prontate sul vintage praticamente solamente verso la fine mi vuoi dire mi dici che vorrai prendere un orologio e quindi mi hai mostrato il Promaster Marine nuovo quello con il quadrante arancione che lo volevo prendere anch'io è quello lì si che ha dato e ha dato sia al polso di tuo padre che è grande che al tuo piccolo sicuramente perché è un diver e se sul tuo polso risulta grande bene perché va bene così se il suo polso risulta un pochino più piccolo bene perché risulterà anche un pochino più elegante quindi quel Promaster lì va benissimo come budget va benissimo alla collezione gli do un 7 gli do un 7 perché quei due Omega vintage lì che hai preso sono veramente spettacolari preferisco il primo perché secondo sai perché sono anche simili ora siete andati proprio a scegliere due orologi simili avete trovato quello va bene perché secondo al day date alla finestra giorno e data è sinceramente veramente cioè in teoria sarebbe una complicazione in più dovrebbe essere più di prestigio no? in realtà noi siamo abituati a vedere il day date sugli orologi entry level tutti questi orient timex e chi più ne ha chi più ne ha più ne metta e quindi quando lo vediamo anche su un Omega vintage oddio poi su quei vintage lì che sono contenuti di diametro una finestra day date arriva dal perno delle sfere al bordo del quadrante mi occupa tutto il quadrante e va un po' a perdere preferisco quello con la data meglio ancora no date sarebbe stato un bel vintigione così dai 7 te l'ho dato 19 anni e non sentirli avanti così poi anche bello il discorso del ai nuovi nati regalano gli orologi da tasca questa qua è una cosa che non avevo mai sentito e che poi avrebbe senso che se fosse tutta una famiglia di appassionati di negozianti che hanno che brigano invece così dal nulla l'orologio da tasca appena fai il battesimo tanta roba un'ultima postilla il fatto che poi tuo padre si sia appassionato che è andato insieme ai mercatini a cercare gli orologi ecco questo è veramente il miglior regalo che questo hobby potesse farti perché una volta che c'è un collante tra padre e figlio che possa essere qualsiasi cosa la pesca il calcio no il calcio anche basta il calcio basta però qualsiasi altro hobby che riesce a legare un padre a un figlio è tanta roba godetevela godetevi la vita dai prossimo video ciao davide ciao per il tuo bellissimo canale grazie ti presento subito i miei orologi e cosa sono partiamo da questo 6.5 sports limited edition 9999 pezzi mondo acquistato questo estate orologio molto carino come tutti i 6.5 sports ed è molto bello anche il quadrante molto bello si andiamo avanti con questo zenith stellina tutto originale vintage comprato in un mercatino dell'usato e fatto revisionare dal mio orologiaio orologio che indosso molto spesso e amo gli orologi vintage e amo il marchio zenith sogno un domani di poter comprare uno zenith al primo gli sono i desideri come si dice anche io andiamo avanti con questo Hamilton khaki feel mechanical manuale bravo animato da un movimento h50 a carica manuale orologio molto indossabile che ha un quadrante molto leggibile sono anche molto belli gli indici con questo colore insomma molto vintage andiamo avanti vai con questo tiso PRX animato da un movimento powermatic 80 80 non ho resistito alla bellezza di questo quadrante secca la presa e alla forma della cassa che mi ha colpito veramente tanto e l'ho acquistato bravo andiamo avanti con questo eberhard eiglon da 41 mm animato da un movimento età 28 24 2 orologio da 41 mm veramente molto indossabile essendo comunque molto comodo e leggero poi la cassa ha una forma circolare quindi non non destra alcun problema anche se ho un polso comunque non troppo grande lo indosso veramente con piacere perché l'ho acquistato in un momento molto bello nella mia vita e mi regala sempre delle piacevoli emozioni oh fa piacere andiamo avanti con questo longjin hydro conquest da 39 mm con ghiera in ceramica e ha un quadrante blu soleil bellissimo ed è molto bello anche questo particolare della corona con queste spallette di protezione che ricordano il logo di longjin ovvero la clessidra alata orologio molto bello da indossare in estate ma non solo perché secondo me anche autunale si sposa bene in tutti i contesti di vita insomma va beh andiamo avanti andiamo con questo eber adotazione nuvolari bello quadrante molto bello è animato da un età 7750 credo si senza secondi lo indosso spesso e mi ha colpito moltissimo la tua video recensione e dopo averla vista non ho resistito e come ho avuto la possibilità ho acquistato questo orologio è la scimmia non sei te è molto famoso perché comunque dietro questo orologio c'è la celebrazione dell'amicizia tra gabrile d'annunzio e tazio nuvolari luminescenza veramente degna di nota per un cronografo e io adoro veramente questo orologio bravo andiamo avanti con questo tudor black bay 58 58 200 metri di impegnabilità cassa skin diver quadrante bellissimo questo dot rosso è spettacolare il triangolo rosso è bellissima anche la ghiera ma anche il fiore di loto sulla corona ora no stavo guardando questo cioè veramente il profilo del black bay 58 non è che sia quel granché no è lì tutto semplice dritto compatto con queste due curvette qua giù in fondo niente di che non è che ci abbia una cassa è bello cioè lo guardi nel suo insieme è bello poi lo metti di profilo vedi questa roba qua mi dici ma dov'è tutto questo appeal però la lavorazione del vetro zaffero è spettacolare come non prende il video ma è veramente spettacolare anche questo è un orologio che adoro adoro andiamo avanti con questo rolex dejas 16220 revisionato da poco è un orologio che è animato da un movimento 31 35 ha i suoi annetti perché è un po' anzianotto mi è stato regalato da una persona a me molto cara a cui voglio veramente molto bene molto molto e lo indosso veramente con i guanti bianchi non per ciò che rappresenta fisicamente ma per ciò che rappresenta per me dal punto di vista emotivo insomma ok di che anno è potrebbe dire andiamo avanti e chiudiamo con questo rolex dejas 16220 16234 con ghiera in oro bianco questo mi piace già di più questo mi piace di più devo dire che secondo me per il dayjust l'abbinamento perfetto con tutto comunque il rispetto per il cinturino oyster sia questo bracciale jubilee e certo penso che sia veramente il connubio perfetto per questo tipo di orologio è anche bellissimo il quadrante e anche questo è animato da un movimento 31 35 la ghiera in oro bianco è altrettanto spettacolare davanti al sole offre dei riflessi stupendi questo è un orologio che indosso poco ad essere onesti non per qualcosa ma perché comunque tendo molto ad evitare di indossarlo non so come mai però lo adoro lo stesso questi erano i miei orologi spero ti siano piaciuti continua così e ci vediamo al prossimo video ci vediamo al prossimo video pareva che mi dicessi ci vediamo no ci vediamo al prossimo video oh sette e mezzo la collezione belle belle c'è un doppio rolex digest uno te l'ha regalato sinceramente preferisco quello blu rispetto al precedente poi ti hai detto il quadrante è spettacolare io stavo appunto pensando che il quadrante soleil ce l'ho avuto anch'io quello blu quel quadrante non me lo ricordo non me lo ricordavo con questo effetto veramente forse è la luce però questo qua nero così più opaco secondo me mi dà più soddisfazione poi anche a livello di leggibilità mi piace leggermente più tra l'altro sette e mezzo poi non sapevo più cosa dire non so più cosa dire non mi ricordo perché non mi ricordo più cosa mi hai fatto vedere sinceramente no no eh cavolo tutti i begli orologi Hamilton Zenith T-SOPRX due Eberard tra cui il cronografo Longinidro Conquest dai no no e il Black Bay 58 e i due Rolexini sette e mezzo te lo sei meritato tutti i begli orologi non mi hai detto quello con i numeri romani di che anno è ma oh tante comunque sei promosso altri commenti da aggiungere non ne ho oggi ho visto oggi abbiamo visto dei begli orologi dai ragazzi giovani eh 18-19 anni e dei begli orologini anche particolari va bene tutti promossi oggi tutti promossi quindi non vado a vedere i gattini su Instagram ci vado sì a vedere i gattini cosa sto a fare non posso mica perdermeli no quindi io vi ringrazio semplicemente no per farla corta per essere arrivati fino qua aver guardato i video con me spero vi siano piaciuti che vi sia piaciuto il video nella sua globalità il presentatore l'orologio del presentatore e il contesto nel quale il presentatore vi ha presentato i video detto questo vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube l'orologio dell'orologio del ciao 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 ciao